Expo Torre 2010, siamo allo stand RIDEA in compagnia del signor Mignone che oggi ci parlerà di questo nuovo sistema di pannelli radianti. Buongiorno, questi sono dei pannelli radianti in alluminio, anzi meglio ancora sono in Ergal, possono essere elettrici ma possono anche essere con l'impianto tradizionale ad acqua, vengono montati su cerniere per garantire l'ispezione e la pulizia, ma soprattutto diventa interessante in un secondo tempo quando dobbiamo ritinteggiare la parete perché invece di smontare il radiatore andiamo ad intervenire scocciando l'attacco e senza dover smontare il radiatore possiamo ritinteggiare la parete. Perfetto, mi sembra un sistema innovativo e anche economico. Beh economico, insomma consideriamo sempre che il metallo con cui vengono prodotti queste piastre in alluminio, anzi in Ergal, che quindi ha un costo intrinseco superiore rispetto all'acciaio. Beh però dal punto di vista del tempo andiamo a risparmiare? Certamente, anche perché comunque l'alluminio ha una resa calorica superiore all'acciaio e quindi in poco spazio possiamo ottenere delle rese superiore. Queste piastre vengono anche realizzate a misura sul disegno del cliente, quindi possiamo dare qualsiasi forma. Utilizziamo, in questo caso specifico sono delle foglie in oro, foglie in argento, una gamma di colori RAL. Beh mi sembra un sistema di design che si adegua alle nuove esigenze dei tempi. Grazie mille. Perché diventano delle proposte, sono dei quadri dei soggetti molto singolari. Grazie mille, buongiorno. È stato un piacere, grazie. A vederci.